Irritazione da mascherina? La mascherina indossata tutto il giorno può irritare la pelle rendendola secca e disidratata. La soluzione è la linea viso Emotion Desense. Per che tipo di pelli è indicata per pelli disidratate con rossori diffusi e sensibili alle aggressioni esterne. Gli estratti d'alga contenuti in questa crema riducono la sensibilità, stimolano la produzione di collagene, aiutano la pelle a difendersi grazie all'azione antiossidante, calmante e addolcente. Inoltre aloe e bisabololo amplificano l'azione lenitiva e disarrossante. Grazie.